Il problema di rinnovare dei guadagnoli per il trattamento dell'hypertensione e, specificamente, cosa dovremmo fare con effetti di pressione a diminuire i effetti del sangue. Ora, c'è una tenda in ricerca attualmente per suggerire che dovremmo essere un po' più aggressivi per aumentare la pressione del sangue con droghe anti-hypertensione. E' per ridurre la pressione del sangue non solo a meno di 140 mmHg nella popolazione del sangue generale, ma a meno di 150 mmHg in la popolazione del sangue generale. Ma cercate di andare così vicino come possibile al 130 mmHg o anche meno, se il trattamento sia ben tolerato. E c'è molta evidenza che, in molte condizioni in cui la pressione del sangue è elevata, questo, in realtà, lega ad una reduzione incrementale di eventi cardiovasculi. e, per esempio, le guide americane, hanno adottato un target di pressione del sangue in modo di maximizzare la protezione cardiovasculare di pacienti hipertensioni. Ma c'è un altro elemento di novità, in probabilmente le guide americane, e questo è per cercare di adottare ancora più effettivamente quello che è un problema devastante nella area di hipertensione. E' che, anche se il trattamento del sangue permetà, in principio, di controllare la pressione del sangue nella maggior parte della popolazione di hipertensione, questo non è successo in pratica clinica, solo uno di cinque pacienti ha controllo di pressione del sangue. E questo problema sarà ancora più peggio ora, perché c'è una tendenza di pressione del sangue di pressione di essere più bassa che nel passato. Come possiamo combattere con questo? Beh, molti hipertensiologi, clinici e ricercatori ricordano di usare un trattamento di combinazione, non solo un trattamento, in modo di controllare più effettivamente la pressione del sangue. E c'è ora una evidenza recente che se iniziamo il trattamento con la combinazione di due trattamenti, invece di un trattamento, il controllo del sangue di pressione del sangue può essere molto meglio. Ora, speriamo che questo sarà implementato nel futuro, perché l'hypertensione è l'unica causa della morte nel mondo. E solo se abbiamo aumentato il numero di pacienti con controllo di pressione del sangue di pressione all'interno del mondo, può l'hypertensione riuscire da questa posizione in desiderata. in questa posizione. . . . . . . . .